mercurius è un prima di tutto un dio simpatico un dio simpatico perché come il suo omologo greco hermes con cui si fonde molto presto nella cultura romana è un dio ironico un dio scherzoso un dio che a volte si diverte anche a tirare dei tiri mancini come si dice però la sua specialità è un'altra a una provincia meravigliosa mercurius che è quella della comunicazione e dello scambio mercurius è un dio che mette in comunicazione i mondi è un messaggero degli dei scende diciamo dall'olimpo per contrattare gli uomini mette in comunicazione addirittura il mondo di sopra con il mondo di sotto e lui che trasporta spinge le anime dei difunti verso gli inferi mette in comunicazione le persone perché è un dio della parola è un dio a cui si consacra addirittura la lingua è un dio che si dice ha inventato la scrittura e a lui che si debba nei caratteri dell'alfabeto perché ma perché è un dio che vuol far comunicare le persone così come le fa comunicare negli scambi commerciali di cui lui è maestro nel dare nell'avere nel mettere quindi in contatto in questo senso mercurio è un dio dell'oggi perché oggi si vive in un mondo che è tutto fatto di comunicazione e il dio forse che meglio ci rappresenta di tutti gli dei antichi e che però lo fa in questa maniera diciamo che è leggera una maniera che non è pesante ossessiva che non è che non ci imbriglia dentro una rete di comunicazione ma con grande leggerezza ci mette insieme l'uno collato ci fa parlare chiamare mercurius un manuale un libro di latino un libro di letteratura latina che cosa significa beh significa prima di tutto la volontà di comunicare ma non di comunicare nella maniera banale no oggi si insiste troppo su questa parola il comunicatore la comunicazione come se tutto si risolvesse semplicemente nell'entrare in contatto no nello scambiare nel dare nel ricevere questa è la vera comunicazione di mercurius e quindi il latino è in questo senso un prodotto di mercurio se potremmo dire perché è la lingua che ha messo in comunicazione il mondo per secoli per millenni e che continua a mettercelo perché dire che il latino è una lingua morta è profondamente sbagliata non è affatto morta tant'è vero che continuano a vivere nel italiano nel francese nello spagnolo in tantissime lingue europee e anche estra europee basta pensare all'america latina che sono tutte lingue in cui il latino continua a vivere e addirittura nell'inglese e il 70 per cento delle parole inglesi di un lessico intellettuale sono parole latine quindi come dire anche la meno latina della lingua e forse delle lingue forse la più latina che esista così lo stesso e questo vale ancora di più forse per i prodotti testi letterari di questa grande cultura che come appunto nello spirito di mercurius hanno fatto comunicare fra loro le persone i popoli che hanno continuato a leggere le grandi opere della letteratura latina per secoli e per millenni creando quindi quella visione comune del mondo quel patrimonio culturale interno su cui ancora si fonda tanta parte della nostra civiltà ecco perché noi ci auguriamo che questo libro con il nome di mercurius sappia spiegare far capire che il latino è un modo per capirsi oggi per capire noi e gli altri per capire noi stessi per rimetterci in sintonia con una cultura che soprattutto in italia è quella che ci circonda la cultura dei grandi monumenti della grande arte e quindi creare questo meraviglioso circolo di cultura in cui noi ci auguriamo che i giovani continuano a vivere come noi ci siamo vissuti grazie a tutti